Pace di Cristo! Cosa la sorella? L'orsetta! Quest'orsettina! Adesso andiamo a fare una preghiera Così iniziamo questa puntata Con una canzoncina Cantata interamente Da tutti i bimbi della chiesa di Torino Adesso diamoci le manine Chiudiamo gli occhiettini E ringraziamo il Signore Per questa nuova puntata Che il Signore parli ai nostri cuori A me il Signore Santo Ti ringraziamo Signore Come oggi ci troviamo qui Signore per lodare il Tuo nome Signore Prepara i nostri cuori A ricevere questo messaggio Che Tu hai preparato per noi Signore E che veramente Tu possa prendere controllo Di ogni bimbo qui presente E per ogni bimbo che sta ascoltando Signore Ancora per chi non è presente Signore Sì Tu veramente Signore Ad arrivare ai loro cuori Signore Preghiamo per tutti i bimbi Signore che non ti sentono bene In questo momento Che sono un po' tristi Un po' soli Noi ti chiediamo Di stendere la Tua mano E arrivare ai loro cuoricini Nel nome di Gesù Amen 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 bimbi Adesso Amen Amen Adesso bimbi Il pastore Il pastore ha una parola Per tutti noi Eh Io lo voglio ascoltare E sono curiosa Di ascoltare Cosa il pastore Vuole condividere Con ognuno di voi Ok Il pastore Chi è che lo sa È la massima autorità Che si trova in chiesa Vero Chi è che prega per il pastore Voi dovete pregare Sempre sempre Per il pastore Per la moglie del pastore Per tutti i ministri Per la moglie del pastore Amen Amen Fratellino Gloria a Dio Non vi dovete mai scocciare Per la nonna Per il pastore Amen Amen Per la nonna di Amina Per la sorella Maria Vero Quindi Dobbiamo pregare Gli uni per gli altri Ma soprattutto Per le nostre autorità Per il pastore Amen E i nonni di Amina I nonni di Amina Certo E i nonni di Amina Amen Per tutti i nonni Amin Per tutti i nonni Della chiesa di Torino D'Italia Di Milano E di tutto il mondo Amen E il pastore Siamo curiosi Di ascoltare Cristo Amen Chi sta contento Di essere qui Oggi Io Io Eh Un bello parco Una bella lezione Oggi Solo sempre Un punto Di ricordare Io Amin Quando noi Andiamo al parco Che facciamo nel parco? Sì Gio Che si fa in un parco? Si gioca Quando andiamo a Rimbalzopoli E se mangia il gelato E se andiamo a E se andiamo a Come si dice? Il zoo E se andiamo al zoo Che facciamo nel zoo? Vogliamo ippopotami E così? L'animale E lo dobbiamo giocare con l'ipopotamo? No 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 Ok Attenzione E nel parco Giocavo E giocavo Con tutti E in tavola Mangiamo E in la gelateria Mangiamo gelato Nello zoo Guardiamo ippopotami Guardiamo Possiamo guardare una girafa? Sì Possiamo guardare un cocodrilo? Sì Io ma voglio i cocodrili Anche io Anche io Però Io Io non voglio giocare con un cocodrilo Io non lo voglio Si lui fosse un cocodrilo Pone la bocca così No Tu sei un cocodrilo grande Io Io voglio guardare Che è successo? Mi ha dato paura? Mi ha dato paura? Ma ora Immaginate che Michele è un cocodrilo Ok? Allora Se io vado al zoo Ma David? David Ascolta Se io vado al zoo E vedo il cocodrilo Io voglio fare così al cocodrilo? No No David Da di questo Che vado al zoo E Vado al zoo A guardare Vado al zoo A guardare Al cocodrilo Ami Se può guardare un squalo Ma io non vado a giocare con un squalo Vero? O con una serpente No Io la guardo Ok Ora ho una domanda Al culto Pastore E la moglie del ministro Copastore Enzo Sorrella Debra Sorrella Debra La maestra Debra Amin Come se chiama il nostro direttore Aministrativo A ver se lo sa A ver se lo sa A ver se alguno lo sa Wow Aministrativo 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 David Aministrativo 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 e brucerò di un amore intenso per te tu sei un fuoco consumante l'unico Dio eterno ai tuoi piedi mi prostro tremante gridando che sei il mio re proclamerò che solo tu sei il Signore adorerò baciando i piedi tuoi la mia vita si incenderà per te e brucerò di un amore intenso per te amen alleluia prendiamo posto bimbi gloria a Dio bruceremo di un amore immenso per il nostro Gesù Cristo alleluia bimbi il pastore ha detto una cosa molto importante ma c'è un pagliaccio là sì amore però adesso finiamo la lezione a casa mia ci sono due papà ok allora adesso finiamo la lezione allora dopo condivideremo le testimonianze che avete adesso invece continuiamo quello che il pastore ha detto bimbi una cosa importantissima quando noi andiamo al supermercato cosa facciamo al supermercato? compriamo compriamo facciamo la spesa dal dottore cosa facciamo? aspettiamo il nostro turno il dottore ci chiama vero? e poi ci può visitare ci guarda la gola le orecchie oppure gli occhi gli occhi eh magari dal dottore dobbiamo aspettare il nostro turno al parco anche al parco anche per giocare se un gioco è occupato dobbiamo aspettare il nostro turno eh in ogni luogo che noi andiamo ci sono delle regolette da rispettare anche al vacation bible school ci sono regolette vero? sì vero che ci sono regolette? eh quindi noi siamo chiamati anche qua eh anche qua in qualunque posto un parco dove ci metto il mio papà amén in qualsiasi posto che amén in qualsiasi posto che noi andiamo dobbiamo eh rispettare le regolette è vero? allora il posto diceva una cosa importante se vengono altri bimbi in chiesa e vi vedono che voi vi comportate male cosa fanno questi bimbi? si vanno a comportare anche loro male quante volte diciamo sempre eh si corre in chiesa no si urla no si gioca no eh poi lo dovete fare non è che lo diciamo solo e poi non lo fate eh perché? perché se i bimbi vengono e vi vedono belli tranquilli seduti come David ieri fratellino David gloria a Dio sorellina ieri fratellino David era seduto al suo posto che ascoltava la parola eh ogni bimbo deve essere seduto ad ascoltare la parola sì poi dopo il culto mamma e papà avete la vostra momento la vostra giornata adesso dicevo bimbi ehm che noi qui nella chiesa di Torino eh siamo felici e gioiosi di stare insieme una cosa importante il signore vi vuole dire oggi il tema di questa puntatina lo sapete come si chiama si chiama così Dio mi ha scelto lo diciamo lo diciamo tutti insieme Dio mi ha scelto Dio ha scelto a Rebecca ha scelto a David a Esther a Samuele a Gloria a Mattia a Giulia Dio vi ha scelto per una cosa molto importante per fare cosa a David tu lo sai che quando eh che voi che siete nati in una famiglia cristiana eh è un onore ed è un privilegio essere nati in una famiglia cristiana perché tanti bimbi non conoscono a Gesù eh tu invece sei nati in una famiglia cristiana una mamma e un papà che lo del signore prega il signore serve il signore e noi dobbiamo reputarci dei bimbi speciali dei bimbi veramente scelti proprio dal signore abbiamo un qualcosa che gli altri bimbi non hanno i bimbi del mondo non hanno a chi abbiamo noi che i bimbi del mondo non hanno fatemi sentire chi abbiamo noi a Gesù a tanti bimbi non lo conoscono tanti bimbi non lo sanno che lui esiste e ci siamo noi per annunciare che Gesù un giorno è morto sulla croce per i nostri peccati per salvare il mondo l'umanità dai peccati e per donarci la vita eterna lui ci ha donato la vita una storia si te la sto raccontando la sorella Gesù è morto sulla croce per donarci la vita eterna per passare per sempre e sempre tutti i giorni per l'eternità con il signore già il signore devi devi già il signore ci conosceva sapete da quando? dalla pancia della nostra mamma quando noi eravamo nella pancia della nostra mamma piccoli 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 lui già conosceva già ci conosceva dalla pancia della mamma poi siamo arrivati al punto che nella pancia non ci stavamo più era arrivato il momento di uscire fuori dalla pancia della mamma e di vedere la luce che il signore ha creato per noi quando siamo usciti dalla pancia abbiamo pianto e abbiamo David abbiamo fatto così quando siamo usciti dalla pancia allora aspetta quando siamo usciti dalla pancia cosa abbiamo fatto? un alito di vita è arrivato ai nostri polmoni abbiamo respirato però la bibbia dice che il signore ci conosce dalla pancia della nostra mamma da quando eravamo piccolini è lì che il signore già ci ha scelto David lui già sa David già sapeva che tu adesso quest'oggi eri qui stavi glorificando il signore e lui sa già veramente quello che succederà dopo per te le scelte che farai per la tua vita sempre conforme alla volontà del signore tramite la parola che cosa è questa? la bibbia noi ogni scelta che facciamo la facciamo con la parola del signore con la bibbia perché lui è una lampada il signore è una lampada al nostro piede è una luce sul nostro sentiero ma da dove viene la risposta alle nostre domande? da dove viene? da dove viene la risposta alle nostre domande? dalla parola dal servo di Dio che guida la nostra vita il signore l'ha posto nelle nostre vite per guidarci ok? allora un'altra cosa molto importante vi volevo dire che il signore come dicevamo prima il signore è presente dappertutto non è che noi quando andiamo al supermercato ci comportiamo male quando andiamo al parco ci comportiamo male tanto nessuno ci vede in chiesa ci vogliamo cerchiamo di comportare bene perché siamo in chiesa e facciamo le cose di nascosto dagli altri e ci comportiamo male il signore ci vede sempre lui è qui presente adesso dopo quando andiamo al parco lui è presente quando andiamo a casa lui è presente intorno a noi noi non lo vediamo ma lo sentiamo sentiamo la sua presenza è invisibile sentiamo la sua presenza e noi lo adoriamo in spirito si tu quando preghi tu ti devi incinocchiali davanti alla presenza del signore e devi dire signore fammi sentire la tua presenza io ti prego io ti voglio ascoltare ti voglio servire ti voglio lodare fatti sentire nella mia vita capito così lui ascolta la tua preghiera questo tuo desiderio che lo vuoi sentire e quando veramente arriverai a sentire quel fuoco che brucia dentro di te ti riconoscerai che quella è la presenza del signore capito però se voi non pregate se non leggete la bibbia con mamma e papà se non lo lodate come fate a sentire la presenza del signore voi quando state pregate e siete davanti alla presenza del signore voi potete sentire proprio che il signore mentre pregate lui vi può abbracciare sentite proprio un amore immenso che lui ha per tutti voi sapete il gesto d'amore più bello che ha fatto il signore per noi quello che dicevamo prima è che è morto per noi sulla croce quello è stato il massimo gesto d'amore che lui ha potuto fare per me per te per Asa per Michele per tutti i bimbi che ci stanno ascoltando certo per Rebecca per Esther per Giulia per tutti i bimbi e per tutti noi un gesto d'amore per tutti Rebecca per tutti perché possiamo vivere con lui per l'eternità com'era il titolo com'era il titolo Dio mi ha scelto diciamo tutti insieme Dio Dio mi ha scelto ok sorellina adesso stavamo dicendo che il signore ci ha scelto anche i bimbi che ci stanno ascoltando se loro pregano se loro sono con la parola qualche bimbo che si sente triste attenzione attenzione qualche bimbo che si sente triste si sente solo magari che ha paura voi vi è capitato qualche volta di aver paura di sentirvi solo o triste vi è mai capitato? no no non ti è mai capitato? no signore capicciano qua cammere poi ok ok non adesso qualche volta vi è mai capitato di aver paura non so magari del buio di un qualcosa che vedete che non dovevate vedere oppure di una situazione oppure di essere tristi per un qualcosa che magari mamma e papà per il vostro bene vi hanno detto di no e voi eravate tristi però dopo con la tristezza avete il signore ve l'ha trasformato in gioia perché per il vostro bene mamma e papà vi hanno detto no e dopo lo riconoscerete quello avete capito devi quindi per tutti i bimbi per tutti i bimbi che sono un po' tristi un po' soli noi diciamo che abbiamo il signore nel nostro nel nostro cuoricino nella nostra vita e invitiamo a tutti i bimbi che non conoscono a Gesù di cercare chi è Gesù cosa ha fatto per noi cosa ha fatto per voi di testimoniare veramente la grandezza del signore cosa? e oggi no sorellina però lo facciamo al vacation per tutti i bimbi anche che ci stanno ascoltando sabato è l'ultimo sabato qua no sorellina sabato dell'ultimo sabato e passeremo l'ultimo sabato al vacation bible school allora adesso passiamo alla testimonianza aspetta adesso passeremo alla testimonianza se qualcuno di voi ha da condividere qualcosa di bello che il signore ha fatto per voi lo andiamo a condividere con quelli che ci stanno ascoltando ok? chi è che ha una testimonianza? chi è che ha una testimonianza? io ok vieni qua ho fatto un sogno a Milano hai fatto un sogno a Milano e cosa hai sognato? c'era un fantasma e come mai c'era questo fantasma? che c'era paura oh e tu cosa gli hai detto? niente in questo sogno non hai proclamato la potenza del signore? no perché Gesù non c'è non c'è allora in questo caso sorellina quando anche fate dei sogni brutti che verrà capitato magari qualche volta eh voi anche nel sonno dovete proclamare la potenza del sangue di Gesù Cristo perché nel sangue di Gesù c'è potenza quando sognate qualcosa di bruttino cosa dovete dire? nel nome di Gesù nel nome di Gesù voi dovete dire io ho Gesù con me e io non ho paura di nulla vi ricordate la canzoncina paura non no? ve la ricordate? eh? la vogliamo cantare insieme? ok? mamma mia ma tu quando sogni queste cose bruttine devi proclamare nel nome di Amen quindi quando hai sogni anche tu una cosa hai sogni anche tu una cosa? vieni vieni a raccontare la cosa vieni alla sorella forse la sorella questo sogno c'erano nei signori c'erano una corda e arrivano una corda questi signori e avevano detto se non vieni nel nostro castello ti leghiamo questa corda e poi cosa è successo? e io gli ho detto no gli hai detto no? bravo è finito così il sogno? gloria a Dio perché noi quando anche le persone del mondo ci dicono qualcosa da fare di bruttino vero? e anche l'altro giorno ho sognato che io ero su una barca e e poi sotto c'erano dei pesci grandi ok allora per quanto riguarda quello del castello grazie fratellino per quanto riguarda quando il fratellino gli ha detto no quello sai cosa significa? che quando quelli del mondo ci vengono a dire qualcosa facciamo questo andiamo a fare questo tanto nessuno ci vede oppure fai questo se no ti leggo ti picchio ti faccio noi abbiamo la potenza del Signore e gli diciamo no nel nome di Gesù io voglio fare quello che piace a Gesù Gesù mi proteggerà Gesù mi guarderà Gesù è con me Gesù è il mio rifugio a me fratellino a me a me sorellina tu ultimo vieni sorellina una testimonianza che hai? io ho fatto un dinosauro a casa mia e ho visto un dinosauro a casa mia hai visto un dinosauro a casa tua e cosa ci faceva? e rubava tutti i miei giochi se li rubava? e si ruba? no no non si ruba quindi tu cosa gli dovevi dire a questo dinosauro? cosa gli dovevi dire? no no dinosauro nel nome di Gesù non si ruba non si fanno le cose bruttine vero? no non si ruba non si ruba non si ruba perché Gesù non piace no no chiamiamo Gesù così non fa andare via eh quindi nel nome di Gesù via ogni paura cantiamo la canzoncina forza finiamo con questa canzoncina tutti insieme e proclamiamo che via ogni paura via ogni spavento via ogni cosa brutta della nostra vita bimbi ricordatevi devi questo sogno ecco allora quando fate la preghierina prima di dormire la sera sapete cosa facciamo con la sorellina Esther quando facciamo la preghierina? prima di tutto proclamiamo diciamo al Signore che siccome abbiamo detto che il Signore è da qualsiasi parte che noi andiamo e ogni presente e ogni scente mamma io ho nato a Simone aspetta aspetta e ogni presente e ogni scente allora diciamo e veglia su di noi quando facciamo la preghierina diciamo Signore veglia su di noi Signore veglia su di noi metti i tuoi angioletti attorno a questo letto attorno a questa casa Esther sapete pure cosa dice? adesso proteggi la tua chiesa Signore no l'ho detto l'ho detto a casa mia eh prima di dormire l'hai detto vero? allora quindi impariamo anche aspetta 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 una di qua e una di là aspetta ecco allora quindi dobbiamo imparare a proclamare anche prima di andare a dormire Signore dammi un dolce riposo che io posso fare sogni in te sogni belli sogni che parlano della tua parola delle storie della Bibbia ok quindi salutiamoci tutti insieme con la canzoncina paura nonno uno due tre paura io nonno paura io nonno forza Dio è vicino a me paura io nonno di nuovo paura io nonno forza paura più forte chi c'è con noi Dio è vicino a me paura nel nome di Gesù Dio a ogni paura come è il titolo di questa puntatina Dio mi ha scelto Amen pace di Cristo bimbi ok ok ok